200.000 soldati sono morti qui nel tentativo di rompere l'assedio. Sospendi i lavori fino a quando non avremo finito gli scavi e classificato i reperti. Sono morti ormai, la questione non ci riguarda. Che posto è questo? Che c'è? Non mi vedete? Sono invisibile! E in arresto cardiaco. Prepara l'adrenalina. C'è qualcosa che ancora ci sfugge. Un Rebus da risolvere. Un Rebus? Io li vedo. Cosa? I soldati morti nel rifugio. Ci rivedremo. Basta! Lasciatemi in pace! Che cosa volete da me? Cos'è che ci ha fatto incontrare? Che cosa ti aspetti che faccia? Io non centro niente con questa storia. Invece ti riguardai come? Su, avanti! Sì, passi! Guarda dove l'hai mandata! Valla a prendere! Scemo, togliti di mezzo!